Ola Trollini, qua è Graziana, benvenuti in questo nuovo... Ciao Pfff, fai sempre in età No, ehi, oh, vieni Non me ne frega del video, Grazia Puzza, posta Trollini, per favore, ascoltateci, perché è importante Allora, prima di tutto, martedì scorso è uscito... Un video Quindi, se non l'avete visto, andatelo a vedere Il video Secondo me è uno dei più belli usciti sul canale, quindi per favore andatelo a vedere e ditemi se vi è piaciuto Ci tengo, dopo che finite sto video Seconda cosa YouTube sta facendo un po' di problemi Perché avete già visto in giro, può essere che molti canali vengano chiusi, bla 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 Quindi, per favore, se ci tenete, a me è Graziana Oltre ad aver attivato le notifiche Vi invitiamo, per favore, a venitci a seguire su Instagram Perché almeno lì vi possiamo avvissare sempre quando esce un video Invece qua su YouTube potrebbero esserci problemi Quindi, per favore, venitci a seguire lì Va bene? Allora, Trollini, qua è Graziana, benvenuti in questo nuovo super bellissimo prank Ovviamente, oddio, ho sporcato la telecamera Ops, scusate Trollini Ovviamente, organizzato da me la super mega queen Stupenda Tra poco deve venire qui Peppe Perché lui crede che dobbiamo registrare un video sul Black Friday E quindi dobbiamo andare un po' in giro per negozi A fare compere con gli sconti Ma, in realtà, si cela dietro questo video falso Un prank che, cioè, proprio non c'entra niente col Black Friday Ovvero, io puzzerò e voglio capire se lui mi dica grave di che puzzi Oppure per amore rimanga in silenzio Ho portato come primo alimento puzzolente una cipolla Allora, raga, io non ho mai mangiato cipolla in vita mia E adesso la devo mangiare È una cosa alquanto schifosa Cioè, il solo odore mi fa vomitare Uno Due Due e mezzo Tre Ce la faccio Cioè, mi si sono impregnati i denti di cipolla E non sono riuscita ad addentarla Riproviamo Raga, perché mi vengono queste idee Puzzolenti Questo è per voi, eh Questo è per voi trollini È una cosa allucinante Comunque, non è vero che solo se tagli la cipolla piangi Perché a me viene da piangere Non so se per la puzza o per altro Ragazzi, mi sto sentendo male Veramente Se non lasciate almeno 15.000 like a questo video Io Non lo so Succede il magello Ve lo giuro Guardate il capocanale In tutto il suo splendore Pensavo che stessi facendo una storia No È la videocamera, perché? Ciao Ciao Perché devi andare a registrare? Sono già pronta Così possiamo dire Ah, i video su Black Friday Tu sei un po' scemino, eh Porca vacca, mi eri dimenticato Sei scemino Ciao, raga Hola, avevo gli occhiali Fate finta di niente Un intro più divertente Non ho fatto mai Hola, trollini Benvenuti in questo nuovo video Su Black Friday Di giorno, tra l'altro Di video strano di giorno Perché noi lo facciamo sempre di sera Dunque, il video di oggi consiste nel Ma che è? Che cosa? Nell'aria Cosa? No, ma a me fa ridere Stavo pensando Mi è uscita cosa? Come parlando in fiorentino Che fanno tipo Il cane La cosa Perché? Con la così Capito? E dunque Il video di oggi consiste Che è oggi? Non mi hai dato nemmeno un bacino No, no, così In bocca No, no, dammelo qua In bocca Dammelo qua In bocca In bocca, in bocca, in bocca Ti prego Grazie a oggi Grazie a oggi ho mangiato troppe cose brutte Non te lo voglio dare Che hai mangiato? Così con l'aglio Le cipolle C'è uno o uno almeno E poi ho messo quest'altro profumo Non so se si sente Ti piace? È un nuovo? Mmh Ok, andiamo? Andiamo al Black Friday Grazie a mo Che c***o ho mangiato Dio mio Dio mio Perché? Ma non è possibile Ehi, beh Che schifo Ma vedi che sei tu che hai mangiato tanto E schifosamente Ma non era vero Era perché mi dispiaceva Bah Se mangi pesante Abbi la decenza almeno di lavarti i denti E metterti una ciugomma in bocca Ma non sono io Non sei tu Certo che sei tu Perché io le cose Tutte con l'aglio La cipolla Puzzolente Non le mangio mica Lo sai Grah ma avrei comprato Se non sei tu Avrei comprato Un Un Coso dai cinesi Tu sei una cosa Il proprio dei cinesi No io non lo compro Vabbà Andiamo a comprare Le cose Ragazzi Eccomi qui Tra poco Deve venire Peppe qui Nel frattempo Siamo stati oggi pomeriggio Sempre insieme Sempre avvinghiata a lui E lui veramente Era al limite Della sopportazione Io ho una La nausea Allucinante Perché Puzzo Tantissimo Ho ancora Queste robe Perché mi metto A fare un po' Di attività fisica Così sudo E così si mischia Sapore di sudore Con sapore Di cipolla Gym time Tutorial Su come puzzare Parte 1 Ok Queste non le so fare Per niente Addio Che non ce la faccio No 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 Le so fare Per essere Veramente Sono Stanchissima Ve lo giuro Sto anche sudando Non so Aiuto Se rende il video Ma vi giuro Che sto sudando Fa caldissimo Diciamo che questo Non è nemmeno L'abbigliamento Più Consono Per poter Allenarsi Gli ultimi due passaggi Mettere il deodorante Che in realtà È un semplicissimo Diodorante A me piace Solo che Siccome è il cetriolo A Giuseppe non piace Cioè una volta Ha sclerato Perché avevo questo deodorante E diceva Che puzzavo A me piace questo Comunque Vabbè E poi Per ultimo Ma non ultimo Per importanza Queste Che sono Pillole Alla Omega 3 Cioè Pillole A sapore Di pesce Secondo me Con questo video Io faccio un torto A me stessa Non a lui Ok Allora Io vado Uno Due Tre È bello fresco Il sapore Di pesce Sto soffrendo Ve lo giuro Sto soffrendo Ragazzi E qui Sono altre caramelle Allora Trollini Qua è Graziana Benvenuto Vabbè Sto registrando Il tuo rumore Che sei registrato? Il video Vai mai? Eh No Ciao Qua è sempre in ritardo Sempre Io non ce la faccio più Adoro Allora Trollini Qua è Graziana Benvenuti in questo nuovo Di video Siamo due Lui è malato Tutto a mano Dei fa Siamo mesi come due Evidenziatorini i entrar a grilla perchè sei bene addosso se niente e ma si dà ti facci il mio mangio? e le mie capelli devi schienare che cos'è la vita di oggi grazie oh rotolita ah vuoi rionare allora ragazzi oggi È easy perché fa caldo E tu fa freddo e tu continui Eh ma questo maglione ha colloato Grazie e basta Noi stamattina dovevamo registrare il Il Black Friday E invece abbiamo trovato un c***o Esatto Non abbiamo trovato niente ragazzi E quindi abbiamo deciso all'ultimo Di cambiare video La smetti di fare una cosa stai interrompendo Grazie io oramai con tutta la buona volontà Ho cercato di contenermi Non ce la faccio Grazie a me Non te la prendere Però Puzzi a morire Amore non lo so Mi sembra come di essere entrato al mercato Hai un insieme di schifi All'osso Oh ma che fai Non ti leggo il gistro Non lo so grazie Non è possibile Ma non è vero Ma stai scherzando Ma tu stai scherzando Ma tu stai scherzando Ma stai lontano Paolo È giusto No Grazie Dai Dai No 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 Grazie Paolo Grazie Ma, oh ma, oh, però, però, a parte che ti sei messa sicuramente quel schifo di cosa al citriolo, l'ho sentito da 3 kg, ma è certo, ah, allora è quello, ma è l'odore del citriolo, cioè io l'ho messo con le acera, è la bancarella, citriolo, pesce, cipolla, si sente, una pizza va fatta, fa schifo, non è cosa, chiedi, ragazzi, ho già detto tutto me ne vado io, non è cosa, rara, non ce la faccio, ma che vuoi fare buona era a casa? Sì, per oggi non ci stiamo niente, non ce la faccio, mi sto sentendo male, rara, troppo, io tutto questo odoraccio non lo sento, va bene, va bene, eccoci, allora, Giuseppe ha qualche problema di testa, ecco, sì, certo, fare una domanda, oh, grazie, madonna mia, oh, ma tu mi hai stancato, no, non si può, con tutta la buona volontà, non è possibile, no, guarda, no, tu mi ero, io ho questo, io ho questo, no, no, grazie, no, no, andro, ehi, basta, beh, oh, no, aspetta, no, no, Giuseppe, ehi, guardami, girati, 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 no, ehi, oh, vieni, non me ne frega del video, grazie, puzzo apposta, beh, beh, puzzo apposta, lo so che puzzi, ma di proposito, puzzo apposta, che vuol dire puzzo apposta, perché, perché mi sono apposta mangiata cose puzzolenti, perché volevo vedere la tua reazione, prank wars, slash esperimento sociale, ma il prank qual è? che puzzo, ma puzzi veramente? lo so, e il prank qual è? volevo vedere tu come reagivi, però puzzi veramente? lo so, e il prank qual è? questo, vieni qui, per favore, per questo scherzo, ho dovuto prendere a morsi una cipolla, ho dovuto mangiare, senti tu, te lo dico già io, ho mangiato una cipolla, il pesce, le pillole all'omega 3, perfetto, il ciclo, il ciclo, lo schifoso, più schifoso, più schifoso, più schifoso, più schifoso, di tutte le altre cose di prima, ok, e poi, dai, tipo di, sudo, puoi essere critica, di? tipo quando una persona si mette un vestito di plastica, dei cinesi, per esempio, questa cosa non mi risulta, cioè il prank, non c'è un prank, questa cosa, ah, c'è, nooo, eh, no, 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 no No, 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 no.